Cazzo ci farà più, tanto non può. Se i servizi ti stanno coprendo vuol dire che avete informazioni che io non ho e le voglio. La fuori di tu risi. Ti hanno dato un po' in confusione, vero? Perché i marchese l'hanno fatto scappare? Perché non ti fai i cazzi tuoi. Se il dottoresi te lo faccio trovare legato in un posto tranquillo, così ti puoi vendicare di lui come meglio credi. Non cerco più vendetta, voglio solo sapere la verità. Ma abbiamo ancora tutta questa confidenza, dottoressa Cantalopo. Ciancuno! Rilassati. E non è bisogno. Rilassati. Ciao! Grazie a tutti.